È un risparmio di tempo e denaro. Mettere a disposizione cose che non usi perché le utilizzi qualcun altro ha anche un valore etico. Tra l'altro puoi utilizzare le cose che sono messe a disposizione degli altri. Sono nato un sacco di aziende che hanno amplificato il valore della collaborazione attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, le quali mettono in contatto persone che altrimenti non si conoscerebbero, con culture e lingue differenti. Inoltre, l'economia collaborativa è uno strumento per creare un ambiente sano in cui crescere insieme è possibile. Ci sono tre buoni motivi per partecipare al workshop. Disegnare una prima mappatura delle realtà che operano all'interno della sharing economy sul nostro territorio, riflettere insieme su opportunità e ostacoli della sharing economy e capire come facilitare e accelerare la nascita di nuove imprese di economia collaborativa.